Credo che sia un momento questo importante di recupero di una visione unitaria degli sforzi che sono messi in campo. Io partirei da quella che è la prospettiva che le autorità di vigilanza si stanno dando insieme anche a delle fondazioni, ma chiaramente il sistema è aperto e quindi stiamo in fase di definire quello che può essere un percorso di messe in comune di forze e risorse, fermo restando la necessità di avere un piano strategico molto chiaro, si parlava prima di strategia nazionale, credo che sia quanto mai opportuno fissare un programma di lavoro e definire anche chiaramente le modalità di impiego delle risorse. In questo programma noi abbiamo almeno inizialmente condiviso due obiettivi, un obiettivo raggiungere quello che è l'audience più importante per il nostro futuro, cioè quindi le giovani generazioni, gli studenti, studenti delle scuole primarie, secondarie, ma anche dei corsi universitari e secondo luogo fare in modo di avere un sistema che sedimenti e consolidi, chiaramente evolutiva, la conoscenza e il sapere che le autorità hanno sviluppato nel tempo al servizio della formazione, ma direi al servizio dei formatori. Il vero tema non è tanto da aggiungere agli studenti perché se misuriamo la capacità, anche la sommatoria delle diverse iniziative, il bacino d'utenza che si riesce a raggiungere è chiaramente una frazione direi molto piccola dell'universo intero. Bisogna cambiare metodo e bisogna avere naturalmente degli obiettivi sia ambiziosi ma neanche nel lunghissimo periodo, altrimenti ragioneremmo sempre nella logica di passi poi non sequenziali. Quindi quando noi parliamo di pianificazione, il primo destinatario del metodo della pianificazione sono in primo luogo coloro che devono mettere in piedi la stabilizia nazionale e quindi devono poter pianificare bene l'uso delle risorse. Per fare questo credo che bisogna partire dalle esperienze estere, cioè dalle esperienze di coloro che hanno fatto e compiuto delle scelte di politica educativa, di politica nazionale. Sono stati citati i modelli di coordinamento del documento che ho molto apprezzato perché quantomeno ha avuto il coraggio di mettere sul tavolo tutto ciò che è un po' la dottrina generale ma anche quelle che sono state le esperienze pratiche. Si è visto anche la sequenza numerosa di disegni di legge tutti infranati, frazionati, qualcuno scritto bene, qualcuno scritto meno bene, sempre in una logica di eroismo, no? Enrico Totti che lancia la stampella poi chissà se compisce veramente l'obiettivo. Questo è una conseguenza di un modo da non seguire più, cioè qui bisogna coagulare le forze e definire una proposta unitaria, una proposta di cosa vuol dire fare formazione in West Education, quali sono gli obiettivi e dove vogliamo andare. Ripeto, nelle esperienze internazionali, quelle che le due esperienze che più ci hanno interessato e colpito sono quella australiana e quella inglese, non tanto per il modello di coordinamento quanto piuttosto per la risposta. Innanzitutto non esiste educazione finanziaria senza cogliere tutti gli aspetti della finanza che è lo strumento per le scelte economiche, le scelte economiche sono poi scelte di vita, non c'è una ricaduta economica che non sia fisica di una scelta e da lì la necessità di mettere in sequenza le scelte intertemporali, cioè non posso non tener conto che non investire informazione in istruzione mi pregiudica poi l'accesso a taluna opportunità, non investire in sicurezza per esempio in assicurazione controvenzi estremi mi può portare domani a confrontarmi con situazioni che altrimenti vanno ad avere un fortissimo impatto sulla modalità di svolgimento anche della vita personale, della famiglia, come peraltro il tema della previdenza, siamo passati da uno Stato che tutelava tutto, il sistema retributivo se voi ci pensate, era veramente una sorta di grande regalo che lo Stato faceva a tutti in un sistema piramidario, la base era lavorativa, la dei lavoratori era amplissima e quindi che stava al vertice e quindi poteva dare la pensione, trasmetteva nel futuro gli oneri di questo scambio non assolutamente congrudo che esiste economico e lo si è visto, era un sistema che non reggeva e lo si è cambiato in maniera quasi drastica, draconiana con tutti gli effetti sociali che questa comportava. Quindi educazione finanziaria va letta nella logica di una politica economica e sociale di un paese e non soltanto nella logica del fai da te o della mera autotutela, anche lì stiamo molto attenti cosa vuol dire autotutela. Qui il tema certamente è l'individuo deve essere in grado di interagire, di fare delle scelte consapevoli, di saper pianificare, ma l'altro grande elemento è che deve essere un attore in grado totale o un partecipante attivo a scelte decisionali che possono essere anche collettive. Quindi non è tanto un interesse personale che può prevalere oggi per avere qualche beneficio, ma è anche un interesse generale letto in chiave di sostenibilità nel tempo delle scelte economiche e anche di natura generale. Per essere più chiari e scendere un po' nel concreto, riteniamo con le autorità che sia importante, che anche con le fondazioni sia importante, mi impeto, consolidare e cristallizzare queste nostre conoscenze. E' un passaggio anche leggendo l'esperienza internazionale è quello di un portale nazionale. Un portale nazionale che metta al servizio dei cittadini, ma ancora prima dei formatori, i formatori sono sì insegnati, non possono essere anche genitori, possono essere gli stessi intermediari che formano le proprie forze commerciali. Quindi a largo spetto il concetto di audience e di target market per questo tipo. Coprendo lo spazio della finanza personale, quindi il credito è importante perché le scelte sul credito sono scelte anche che impattano sul risparmio futuro. Direi anche un'altra cosa che è stata non ben sottolineata. C'è un tema di modello di consumo? No, no. Una scelta di investimento è una scelta che viene a seguito di scelte di consumo. Ho deciso di consumare meno, ho fatto investimento in formazione, ergo meno risparmio, ma la componente di costo dell'istruzione è un investimento nel futuro. Il costo invece dell'acquisto di beni e servizi da consumo mi comprivono il risparmio e mi impediscono naturalmente le scelte di investimento. Come è stato detto in altre sedi, l'educazione finanziaria è anche educazione al consumo. Perché se partiamo soltanto dal risparmio e dall'investimento del risparmio non ci parliamo del problema di come questo risparmio si deve venire a formare. Questo risparmio si forma sicuramente con capacità lavorativa, il che vuol dire investimenti in istruzione prima, ma anche nei modelli di consumo. L'idea è che si consumi tutto subito perché vi è un benessere immediato, comprime poi gli stiti di vita o lo standard di vita successivo. Allora, la logica della pianificazione ha bisogno anche di essere corroborata della filosofia generale, cioè non è possibile ragionare soltanto in chiave di micro strumento, di mini strumento microeconomico, ma bisogna ragionare in chiave anche di filosofia. Altro tema che mi sembra importante sottolineare è un po' il distinguo nei ruoli. A me fa piacere sapere che gli intermediari si stanno molto attrezzando nell'educazione finanziaria, nel scendere in campo dalla scuola. Però io direi attenzione, la prima loro preoccupazione, come si è detto, essendo profit orienti, è il modello di servizio. Probabilmente si debbbero preoccupare come prima cosa del modello di servizio, perché se il loro modo di comportamento è la logica del raggiungimento del budget interno entro fine anno, naturalmente stanno cogliendo l'aspetto distributivo, commerciale, molto meno quello anche della loro stessa sopravvivenza nel lungo periodo. Si diceva prima, qualche prodotto non è andato bene, qualche prodotto non è andato male. Noi come autorità di vigilanza sulla trasparenza e la correttezza abbiamo detto, attenzione, non è il problema del prodotto, è il problema che non c'è il contenuto del servizio. Il cliente non compra il prodotto. Ha stipulato un contratto di servizio. Tamifi è un contratto di servizio. Quindi, questo non è una critica, però direi, innanzitutto, il vostro primo obiettivo, il vostro primo dovere è definire un modello di servizio relazionale col cliente che parta dalla conoscenza del cliente stesso, parta dalla conoscenza dei suoi bisogni. E' la MIFI 2 che lo impone per legge. Si parla di crowd governance, si parla di strategia commerciale, dicendo per via normativa quello che doveva essere nella biontologia e nell'esperienza stessa. Dopodiché, benvenga questo l'uso delle risorse spese per l'educazione finanziaria, però probabilmente dovremmo farle con un programma nazionale a problemi di dare questa questione, perché non ci leva, non si devono risorse a quelle che sono poi la necessità di avere una politica nazionale che colpisca, ripeto, non indistintamente, non via spot, ma quanto piuttosto target di riferimento individuati con obiettivi individuati, con contenuti individuati. Altro elemento che volevo sottolineare sono l'intescambio con le associazioni dei consumatori. Le associazioni dei consumatori, dal nostro punto di vista, rappresentano i consumatori, quindi una sorta di rappresentanza sul territorio dei consumatori. Per questo sono il vero canale di trasporto, di segnali di disagio che arrivano da varie parti, da vari siti sociali, da varie parti del territorio nazionale. E per questo vanno, questo è la prima Iosch, ma è vero, noi come autorità pubblica, direi come pubblica amministrazione, dobbiamo farci carico di questo disagio e come rispondere. E la risposta, ripeto, non è più trasparenza, più regole, più vigilanza, più sanzioni. Questo è già nelle nostre corde, questo è già nella nostra polisi. Il vero problema è avere una quarta gamma, il vaccino del sistema. Il vaccino del sistema è un mondo di risparmiatori, ma direi di cittadini, che siano in grado di cogliere quali sono i propri diritti, le proprie responsabilità di capire che il famoso questionario MIFID non è un modulo, quindi non chiamato un modulo, perché il questionario MIFID è la quintessenza dell'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare. Non posso svolgere un'attività senza conoscere i clienti, quindi non è un modulo. e questo è un punto fondamentale. Noi abbiamo investito risorse interne da anni sulla piedra dell'economics, da ultimo sui questionari MIFID, sulla comprensibilità dei questionari MIFID, perché se viene vissuta una logica tutta formale, normativa, cade poi la prestazione corretta del servizio, che è fondamentalmente conosco i miei clienti, conosco le loro caratteristiche, conosco i loro obiettivi, ergo il mio modello di servizio, è perfettamente conforme e non ho effetti sorpresa, perché comunque il rischio finanziario o il rischio economico è un rischio che esiste, non c'è il modello di servizio, non c'è tutela, non c'è normativa, non c'è un forzo, non c'è sanzione che elimini il rischio. Il tema è la sostenibilità del rischio, il tema è, è conforme ai miei obiettivi ed è sostenibile. Vi faccio un esempio concreto per uscire un po' dall'ambicoltà. Su 20 questionari anonimi che abbiamo analizzato, 19 non sotto la solida di sufficienza, 19 sul 20, uno solo, perché chiedere al cliente in una logica relazionale di servizio qual è la tua propensione al rischio, e quindi la risposta senza cogliere l'aspetto delle conseguenze di una rispostina di un secondo, significa francamente avere scarso in mente il dovere di un intermediante, servire al meglio l'interesse del cliente. Capisco che c'è questa necessità degli intermediari finanziari in generale di arrivare al risultato a fine anno, ma bisogna anche mettere in evidenza la naturale continuità della relazione con il cliente, il che vuol dire rapporti di lungo periodo, di medio periodo, non l'interranno colpisco, vengono i prodotti ad appiota percentuale commissionale, e questo lo minimi soddisfa e soddisfa l'unimo progetto. Per chiudere, credo che sia necessario, per qualcuno, mettere in campo tutte le forze per fare un programma che ci veda a tutti i puntalisti, coprire tutti gli spazi che vanno alla finanza personale, al risparmio investimento, non sottoluttando anche indicazioni sui modelli di consumo, a cosa questi vogliono dire. Il tema delle assicurazioni non è per niente irregavante, perché una cosa è un investimento finanziario che mi copre gli obiettivi e un'altra cosa è andare a creare anche una sorta di immunizzazione dai venti estremi, perdite di lavoro, inabilità, addirittura caso morte e quant'altro. E l'altro grandissimo tema, è grandemente discusso, grandemente dibattuto, ma fortemente tralasciato nel piano operativo è quella previdenza complementare. la previdenza complementare si sono spesi milioni di parole, fiumi, tonnellate di seminari incontri, sia ma ancora a percentuali, se facciamo l'assumatore e l'aggregato di fondi pensioni negoziali, fondi pensioni complementari aperte per le tasse professionali, credo che non si superi il 4%, 5%, contro il 36% dell'Inghilterra, il 30% della Germania. Allora, è un gay? Sì, è un gay, le responsabilità sono molto diffuse, non è una responsabilità pubblica di iniettare soltanto regolamentazione, vigilanza e sanzioni, c'è un tema dei intermediari che probabilmente si devono concentrare sul modello di servizio e quella la loro risposta sul campo non altro, benvengano le iniziative lodevoli sulla scuola, ma il vero problema è, fatto un modello di servizio che sia al servizio dei clienti, come dice la normativa, con tutti gli strumenti e il resto, queste risorse ulteriori si possono portare in un sistema centralizzato. Naturalmente, il sistema deve essere aperto, non vorrei mettere il numero del tipo, no, le società pubbliche hanno loro la scienza e quindi sanno come morse, no, deve essere un sistema aperto dove c'è una forte condivisione di obiettivi e strumenti e lui che fa sì che dal punto di vista operativo, le fondazioni, le università, centri di ricerca possono apportare il loro contributo in una logica chiaramente anche di flessibilizzazione e di gestione di quelle che possono essere esigenze o in specifiche. Grazie. 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 Grazie.